C'era Somma, il paese nella morsa del passaggio a livello, le sbarre sulla Pisana e nella strada che porta al centro abitato chiudono più di 100 volte al giorno, il caso all'esame del Consiglio Comunale. Chiusa la strada comunale per Fiattone, a Gallicano lavori in corso per la messa in sicurezza di un movimento franoso a pochi metri dal bivio per la Fondovalle. Mura una mostra permanente nel sotterraneo di Santa Croce, presentata la prima location dell'esposizione che mira a valorizzare il massimo monumento cittadino di Lucca. Dieci sconfitte ma senza lode, troppe battute d'arresto per la Lucchese in un campionato costellato da pochi alti e tanti bassi. Nelle ultime sei giornate ben quattro sconfitte, domenica sera arriva una SPAL in piena crisi. La meglio gioventù della Toscana, la bella e ampia sede della pugilistica lucchese, ha ospitato il primo allenamento collegiale del 2024, oltre 70 giovani pugili sotto la guida attenta del maestro Giulio Monselezano. Ben trovati con questa edizione del nostro telegiornale, bene lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano. L'incubo del passaggio a livello a Cerasomma, una giostra che si alza e si abbassa anche più di 100 volte al giorno. Ce ne parla Egidio Conca. Per chi transita da qui ogni giorno è una grande scocciatura, ma per chi abita a Cerasomma è un vero e proprio incubo. È il passaggio a livello sulla via Pisana che insieme alle altre sbarre, quelle su via di Cerasomma, chiudono il paese in una specie di morsa. Nel corso di una giornata le sbarre si alzano e si abbassano di continuo per far transitare i treni sulla linea Lucca-Viareggio-Pisa. Per me almeno 120-130 volte al giorno chiude, sicuramente perché io sono qui e lo sento regolarmente tutti i giorni che chiude, è una cosa incredibile. Il fatto è che si tratta di due passaggi a poca distanza l'uno dall'altro e in mezzo c'è pure uno scambio a complicare le cose. E così accade che le sbarre si possono abbassare anche tre volte nel giro di un quarto d'ora, oppure che rimangano giù anche per 20 minuti, in particolare sul passaggio più piccolo che non è nemmeno automatizzato. Grazie al consigliere Daniele Bianucci la questione è stata portata in Consiglio Comunale, che si è impegnato ad affrontare il problema con le ferrovie. In prima battuta i residenti chiedono almeno una tempistica di riapertura il più rapida possibile. Un'automazione un pochino più efficiente. Sta richiudendo in questo momento. Sta richiudendo infatti. Più veloce, insomma, che al passaggio del treno riapra il passaggio a livello, mentre adesso a volte l'attesa è di 20-30 minuti a seconda del numero dei treni che deve passare. Ci sarebbe anche un vecchio progetto per realizzare un sovrappasso che però non si è mai concretizzato. Nel frattempo la giostra infernale dei passaggi a livello condiziona da decenni la vita di chi abita in questo paese. Devi tenere conto del passaggio a livello per qualunque cosa devi fare. per la scuola, per il lavoro, la mattina. E quindi noi aspettiamo forse qualcosa di più serio che ci permetta di avere una vita un pochino meno condizionata dal passaggio a livello. E c'è soprattutto un problema di sicurezza. Le lunghe attese a cui possono essere costretti i mezzi di soccorso. Le code che non fanno in tempo a smaltirsi con le auto che rischiano di rimanere tra le sbarre. Spesso siamo costretti a chiamare la polizia perché ci aiuti a intervenire sulle ferroviarie dello Stato che faccia aprire questa cosa. Intanto il passaggio a livello è chiuso un'altra volta. Ma se lei sta qui si diverte. Potrà vederlo centinaia di volte. Furti sul territorio in prefettura. L'incontro con i sindaci. La riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica priesieduta dal prefetto Giussi Scaduto. Ha visto la partecipazione dei primi cittadini di Barga, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza. Oltre al questore Edgardo Giobbi, al Comandante Provinciale dei Carabinieri Arturo Sessa e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Marco Querqui. L'analisi congiunta si è concentrata da un lato sugli esiti delle attività poste in essere e dall'altro sulle ulteriori iniziative da intraprendere. A Gallicano la strada comunale per Fiattone chiusa per permettere la messa in sicurezza della sponda. Chiusa per lavori, la strada comunale per Fiattone nel comune di Gallicano. Interventi resi necessari a causa di un movimento franoso a pochi metri dal bivio con la strada di Fondovalli. Questa sponda era già stato oggetto di un intervento e sicuramente grazie al posizionamento delle reti paramassi si è evitato che accadesse qualcosa di grave. Ecco il momento del taglio dei cavi che trattengono il materiale franato e rimasto all'interno della rete. L'amministrazione comunale di Gallicano è intervenuta con sollecitudine provvedendo a bonificare l'area e successivamente a metterla in sicurezza. Una somma urgenza attivata dopo una piccola frana che poi si è rivelata molto più grossa di quello che ci aspettavamo. Siamo riusciti a intervenire subito grazie ai fondi di bilancio stanziati e adesso aspettiamo che arrivino dei finanziamenti più importanti per mettere in sicurezza tutto il versante della strada che porta a Fiattone. Incaricata di eseguire i lavori anche con l'utilizzo dei rocciatori è stata la società cooperativa La Rocca di Castiglione Garfagnana che sta provvedendo, rimuovendo le reti e bonificando l'area. Certo è che anche in questo caso, oltre che in più occasioni in passato si evidenzia la fragilità di questi territori. Ci sono eventi che accadono dopo eventi meteorologici molto importanti ma come in questo caso invece una piccola frana si è trasformata in un grande evento. In questi anni abbiamo investito tanto sulla messa in sicurezza del territorio abbiamo intercettato finanziamenti europei, nazionali e anche regionali e andremo avanti su questa strada per fare in maniera che le persone possano continuare a vivere in questi posti così complicati ma così belli. Valorizzazione delle mura, svelata la prima location che ospiterà a partire da marzo la mostra permanente nel sotterraneo di Santa Croce. Riconoscere le mura, una mostra permanente per la valorizzazione delle sortite e dei sotterranei del più importante monumento cittadino lucchese. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente dagli assessori al turismo e alla tutela delle mura Remo Santini e alla cultura Mia Pisano e dalla curatrice della mostra Roberta Martinelli. I luoghi individuati per ospitare l'esposizione permanente sono il sotterraneo del baluardo Santa Croce, il castello di Porta San Donato e il sotterraneo del baluardo San Colombano. Si partirà dall'allestimento del sotterraneo del baluardo Santa Croce per intenderci quello accanto a Giulio in Pelleria che verrà inaugurato entro fine marzo. Ma cosa troveranno nel sotterraneo lucchesi e turisti? Troveranno delle informazioni molto utili e soprattutto una guida, come dice il titolo, a riconoscere le mura cioè a vedere gli oggetti, capire, inserirli nel contesto storico. Nel dettaglio è previsto un percorso di immagini e testi con alcune proiezioni di carattere narrativo che racconteranno il funzionamento militare, la struttura difensiva e l'architettura dei baluardi cinquecenteschi. Una vera e propria riscoperta delle curiosità e dei segreti delle mura. Ma all'iniziativa si prefigge anche un altro obiettivo. La cosa importante però è la valorizzazione di questi spazi che altrimenti sono un po' oscuri in tutti i sensi sia per i lucchesi che per i visitatori stranieri. Per l'assessore Santini questo è solo il primo passo del progetto di rilancio del massimo monumento cittadino. È un'operazione molto importante su cui l'amministrazione comunale ha fatto un importante investimento finanziario. è il primo passo verso una valorizzazione che abbiamo detto fin dall'inizio del nostro insediamento di voler fare. Il modo anche per lanciare il brand Lucca legato proprio al monumento simbolo della città. Un progetto di scuola IMT si aggiudica un cospicuo finanziamento dal Fondo Italiano per la Scienza. Il progetto SPACE sviluppato da scuola IMT Altistudi Lucca ha ottenuto un finanziamento quinquennale da 560.000 euro sul bando FIS, Fondo Italiano per la Scienza. Il progetto, che intende comprendere come si è sviluppato ed evoluto il pensiero occidentale, è stato l'unico in Toscana a ricevere un contributo nell'area delle scienze umane e sociali e uno dei nove a livello nazionale. Complessivamente sono stati presentati quasi 2000 progetti e solo 47 sono stati selezionati per il finanziamento nelle varie discipline. SPACE si pone l'obiettivo di evidenziare che l'idea di sapere globale ha avuto nel mondo arabo-islamico medievale una tappa fondamentale della sua evoluzione perché in questo contesto sono nate le prime enciclopedie filosofiche onnicomprensive. Una ricerca che permetterà di riscoprire anche il valore di una conoscenza ampia e inclusiva che va dal di là della sempre maggiore settorialità e specializzazione del sapere i cui limiti sono sotto gli occhi di tutti. Confcommercio lancia un fine settimana di sconti in centro storico, sconti in maschera. Un fine settimana di shopping scontato in centro storico a Lucca. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, nei negozi aderenti all'iniziativa sconti in maschera, sarà possibile fare acquisti a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto ai normali saldi iniziati a gennaio. L'appuntamento promozionale è promosso dalla Confcommercio in collaborazione con il centro commerciale Città di Lucca in occasione del cartellone di eventi dedicati al carnevale a cura del comune. Le attività partecipanti, spiega il presidente di Federmoda Confcommercio Federico Lanza, saranno riconoscibili grazie a una speciale vetrofania. Ci auguriamo che l'iniziativa possa fungere da richiamo e traino per gli eventi di Lucca in maschera, che vedranno domenica 4 febbraio lo svolgimento della spilata di maschere e figuranti del carnevale di Viareggio sulle mura. Confcommercio ricorda gli esercenti eventualmente interessati ad aderire alle vendite promozionali che sarà possibile farlo rivolgendosi agli uffici dell'associazione per richiedere l'apposita vetrofania entro giovedì 1 febbraio. Lo spettacolo emozionante del doppio tramonto dietro al Monte Forato Niente afflussi record di appassionati come gli anni passati, ma comunque un buon numero di persone si sono ritrovate sul Sagrato del Duomo, complice anche il tempo bello, per assistere al ritorno del doppio tramonto di Barga. Con il sole che tramonta due volte dietro il Monte Forato, grazie al suo passaggio attraverso il grande arco naturale della montagna. Le immagini si riferiscono al giorno 30 gennaio, quello principalmente deputato a regalare lo speciale tramonto, ma in tanti hanno scelto di provarci anche il 29 ed il 31, altri due giorni possibili per ammirare lo spettacolo, in caso di tempo buono. Purtroppo il tramonto dietro l'arco ciclopico è stato in parte rovinato dalle nuvole all'orizzonte che hanno reso meno nitido lo stagliarsi del sole. Barga non è l'unico luogo deputato in questi giorni ad ammirare il doppio tramonto. Nei prossimi giorni lo spettacolo sarà a Trassili con il comune di Gallicano, il 2 e 3 febbraio i giorni deputati, ed il luogo ideale è la piccola chiesetta di Sant'Anzano a due passi dal paese, meta ogni anno di tanti appassionati. Vetri Rotti è il nuovo singolo della giovane cantautrice lucchese Alessia Berlingacci. L'inedito prodotto da Vincent Masini per Musica Mia promette un viaggio attraverso il suo mondo sonoro unico. Alessia Berlingacci, talentuosa, artista di 26 anni, originaria di Piano di Coreglia, ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti come il premio Acume Città di Molocchio ed il premio Giancarlo Bigazzi. Una stella di nome Ilaria, 30 anni dall'agguato di Mogadiscio, il concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Un concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per ricordare la giornalista Ilaria Alpi, uccisa 30 anni fa assieme al suo operatore in un agguato a Mogadiscio. La proposta di lavoro, promossa da numerosi enti e istituzioni, tra cui Articolo 21, Associazione Nazionale per la Libertà di Stampa, sta registrando le prime adesioni anche in provincia, grazie al neonato presidio territoriale di Lucca. Una stella di nome Ilaria, questo è il titolo dell'iniziativa, vuole coinvolgere i giovani facendo leva sulla loro curiosità. Ragazze e ragazzi sono invitati a lavorare sulla figura di Ilaria Alpi e sul tema della libertà di stampa, di farlo insieme ai loro docenti in piena libertà e producendo qualsiasi prodotto ritengano utile per esprimere il proprio punto di vista e la propria ricerca, che sia un tema, che sia un social content, che sia un video o, perché no, una composizione musicale. Gli istituti che desiderano partecipare devono inviare la scheda di iscrizione al concorso entro venerdì 8 marzo. C'è poi tempo, fino al 25 aprile, per consegnare gli elaborati. Il presidio di Lucca di Articolo 21 mette a disposizione delle scuole del territorio che vorranno aderire, laboratori di giornalismo incentrati su questo tema e anche incontri con personaggi di livello nazionale. ha messo atto conclusivo un evento nazionale in programma il prossimo 24 maggio, data di nascita di Ilaria Alpi, a Roma, alla presenza di Autorità della Repubblica. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo per una breve pausa e subito dopo la nostra pagina sportiva.